amici e amiche carissime a pre Maria a tutti benvenuti a questa nuova piccola avventura che abbiamo introdotto iniziato sulle note di una splendida canzone molto molto bella cominciamo subito con un po di pubblicità toccami il cuore di cantiere kairos consiglio vivamente l'ascolto dei brani di questi bravissimi ragazzi insomma che hanno come altri grazie a dio nel mondo cristiano si muove qualcosa come altri bravissimi cantautori adesso non voglio citarne troppo insomma stanno spendendo la vita per dare gloria a dio appunto con la voce con la voce con la musica così come i poveri preti cercano di darne un pochino attraverso anche attraverso la predicazione questa ovviamente questa serata un pochino come dire natura un po introduttoria ecco per racconto un pochino come come nata l'idea di questo nuovo ciclo di catechesi anche il titolo la sana dottrina cattolica allora io per grazia di dio per i suoi misteriosi disegni insomma che mai mi sarei aspettato cioè se mi avessero detto quando sono entrato in seminario un giorno sarei stato davanti a un computer a fare una diretta diciamo così facebook quindi streaming non sapevo neanche cosa significassero insomma queste cose quindi con il senno di poi il nostro signore va sempre a capire tante cose quindi io mi sono ritrovato in questa realtà diciamo così di un'esperienza anche come dire che va al di là diciamo così dei dei confini canonici che sono ovviamente il mio primo campo è il più importante anche il più serio quello di cui devo rendere conto davanti a dio insomma di di apostolato in quanto assegnatomi dal rappresentante degli apostoli nella chiesa locale che è appunto il vescovo no mi sono però trovato per una serie di circostanze che sarebbe adesso lungo un giorno magari potremmo fare una una testimonianza insomma dove racconterò come nasce la mia avventura sul web perché è nata per una serie di di eventi non da me evidentemente né previsti né pensati né voluti che mi hanno gradualmente portato sulla via dove oggi mi trovo e quindi sono circa una decina d'anni che mi trovo qui perché i primissimi video su youtube antichissimi dopo adesso un pochettino abbiamo un pochettino sfrondato perché c'è troppa roba ma i primi risalgono al 2011 il sito web storico che adesso insomma è stato molto molto trasformato della parrocchia di borgo san michele se non ricordo male del 2008 2009 quindi sono passati il tempo passa sono passati circa 12 anni all'inizio della mia attività diciamo così multimediale cercavo di anche attraverso tutta una serie di storiche catechesi insomma sulla su radio buon consiglio insomma che ricordo sempre con 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 molta con molta gioia insomma con molta gratitudine anche e cercavo di trattare dei temi fondamentali diciamo così della nostra fede cattolica tipo i comandamenti tipo i sacramenti perché da giovane sacerdote qual ero notavo purtroppo non mi sbagliavo insomma che notavo allora ma è un problema assolutamente attuale anzi paradossalmente insomma col passare del tempo alcune cose si vanno accentuando ancora di più notavo una cosa che notavo una come dire lontananza di molti fedeli anzitutto dalla vita sacramentana una trascuratezza che abbraccia tutti i sacramenti battesimi pochi ed avanzata e confessioni pochissime e mal celebrate partecipazione c'era una messa scarsa ma tante comunioni tante comunioni a fronte di poche confessioni e io mi chiedevo ma questi saranno tutti quanti santi dico ma cresima parliamo insomma no cresime sono le cose che quando ancora c'erano i capelli però c'erano ancora i capelli insomma qualcuno in più ti rifanno venire dritti perché tu hai tanta fatica per portare i ragazzi alle cresime dopodiché sistematicamente salvo rare eccezioni insomma che il signore ha anche concesso tante grazie anche nella comunità dove sono stato più a lungo fino adesso per dieci anni quella che ha preceduto la mia presenza a sermoneta quindi ho avuto delle discrete soddisfazioni soddisfazioni spirituali ovviamente anche per quanto riguarda i giovani però la maggioranza dei cresimati spariti e il sacramento del matrimonio non ne parliamo insomma no convivenze a go go matrimonio al comune eccetera eccetera l'unzione degli infermi lo dico tuttora insomma è uno dei sacramenti voi sapete che sacerdote ve lo dico io insomma che sto dentro a forza di celebrarli se li impara a memoria cioè il ritorio del battesimo lo so quasi a memoria la messa la potrei celebrare anche a memoria insomma ma non perché cioè a forza di farlo uno se lo impara insomma la formula della 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 soluzione uno la sa memoria insomma no ma col consacramento dell'unzione devo stare sempre attento a guardare il libro perché l'ho amministrato talmente poco che non sono riuscito a impararlo insomma no ecco l'ordine sacro certamente non avevo testimonianza diretta so certamente che le vocazioni anche dalle nostre parti insomma sono 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 in calo insomma vedremo adesso le configurazioni questo per le persone magari vicine che stanno ascoltando insomma che assumerà la nostra la nostra chiesa anche locale che cosa andrà a succedere perché il sacerdotico comunque sono pochi anche da queste parti quindi vedendo queste cose dico facciamo un po di catechesi per sensibilizzare la gente a avvicinarsi ai sacramenti a celebrarli un po meglio a fargliene capire l'importanza poi non parliamo dico ma se questi non si confessano o si confessano in maniera adesso non sapete che un prodotto delle confessioni non ne parla e meglio è anche se ne deve parlare in generico però siccome le confessioni diciamo così in generale poco e male dico questi non è cioè so tutti i santi nel senso che non li fanno i peccati gravi o non li conoscono quali sono i peccati gravi allora via dieci comandamenti le famose 50 catechesi adesso mi ricordo insomma quante erano approfondite no ecco qual è diciamo così dentro questi primi miei interventi diciamo così dottrinali in questo senso c'era chiaramente insieme a tanto zelo apostolico anche qualche slancio diciamo così qualche qualche punta qualche forse eccesso di zelo diciamo così giovanile nel senso che non non mi sono pentito mai come dire della sostanza delle cose che ho detto perché le ridirei tutta nella sostanza però certamente la forma la verve i toni risentivano del fatto che ero più giovane e avevo meno esperienza pastorale allora è importante come dire fare una sorta di aggiornamento di tante cose non perché si debbano dire cose diverse vedremo subito c'era questa sera cioè noi ci abbiamo qualche giorno fa ho avuto la gioia grande di rivedere un mio vecchio amico sacerdote che l'ho sentito in una predicazione che venuta a fare quindi oggi si invitava dal vescovo che non fabio rosini attenzione le omelie di don fabio e raccomando a tutti i miei amici perché don fabio veramente un altro pianeta insomma cioè è proprio un altro pianeta e lui introducendo tante cose che ci dice ha detto una frase che io immediatamente mi sono riconosciuto al cento per cento insomma no che è questa noi preti non dobbiamo dire cose nuove dobbiamo andarci a inventare cose strane noi dobbiamo continuare a dire e ridire la nostra bellissima fede che è bellissima d'accordo dobbiamo inventarci cose strane nuovi orizzonti teologici o cose particolari no dobbiamo ridire e in forma sempre migliore quello che di bellissimo ci abbiamo perché guardate che se una persona entra dentro la volontà di dio a livello minimo cioè i comandamenti li osserva sul serio tutti dopo averli conosciuti e impara a celebrare vivere bene i sacramenti e poi la preghiera non campa come gli altri uomini d'accordo è così è d'accordo non 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 campa come come gli altri uomini ecco allora è importante allora i come dire i toni dirompenti diciamo così del dell'età giovanile il signore li ha permessi d'accordo perché perché in certe sensibilità io ho visto ho potuto constatare che hanno prodotto del bene perché a volte insomma come dire un caterpillar ti passa sopra se uno sta con la coscienza un pochino intontita un pochino addormentata ti fa bene d'accordo però c'è la pecca questo stile e del non circostanziare bene alcune cose non approfondire bene alcuni aspetti e questo che succede che in altre sensibilità in altre in altre strutture mentali può produrre una distorsione addirittura nella comprensione di ciò che viene comunicato questo non è colpa del destinatario per questo è responsabilità è demittente quindi occorre imparare a fare attenzione e quando si affrontano certi temi a aprire bene i ventagli d'accordo e a circostanziare quindi a fare un passo indietro diciamo così con la foga con la verve e un passo avanti invece con proprio con la dottrina con la sapienza quindi detto bene il principio gli esempi le circostanze le situazioni che poi l'applicazione di quel certo principio comporta questo è importante e quindi questa cosa è cominciata diciamo così a nascere diciamo dentro dentro il mio cuore dico che facciamo che non facciamo che facciamo che non facciamo che facciamo che non facciamo e per cui è nata questa cosa quindi che faremo durante queste durante durante queste durante queste nostre conversazioni a cui vorrei dare sicuramente adesso almeno all'inizio cadenza settimanale comunque poi al massimo una settimana una cadenza al massimo quindicinare insomma adesso vediamo se riesco a spero di farcela insomma no non è altro che un rivisitare ecco gli argomenti classici diciamo così della dottrina cristiana i capisaldi quelli che sono necessari per poter vivere da figli di dio e basta in modo tale che possa essere aperto il più possibile questo orizzonte e porte spalancate senza diciamo così possibilmente controindicazioni o possibilità di fraintendimenti di equivoci o eccessi unilateralizzazioni insomma o dinamiche di questo genere ecco quindi questo è un pochino vuoi sapere che quando dio vuole qualcosa ti mette prima una cosa prima di era un pensiero questo pensiero ti ritorna poi ti rimugina poi dice sì forse se bisognerebbe fare come facciamo dove facciamo quindi ci è voluto un pochino di tempo qualche 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 mese credo prima che maturasse dico sì facciamo così quindi lasciamo intatto il patrimonio del del passato perché il signore sa bene come usare queste cose però arricchiamolo ecco con l'apporto che deriva da il fatto che io sono quasi mezzo secolo insomma quindi c'ho quasi 50 anni e alle spalle già 16 anni di esperienza sacerdotale tre comunità parrocchiali questa è la terza insomma conosciute superate anche tutte quante quella serie di cose io dico sempre insomma che lo dico anche a voi poi iniziamo subito ad entrare nel video della puntata di oggi cioè e soprattutto quando dovesse venire nelle vostre parrocchie un giovane prete dovete pensare semplicemente una cosa un giovane prete è come un padre al primo figlio o una madre al primo figlio cioè io non lo so come sono i padri reali però presumo insomma vedo dall'esterno alcune cose cioè l'esperienza è una cosa che non è sostituibile da niente e anche alcune stupidaggini perdonatemi il termine che si possono vedere fare da alcuni sacerdoti giovani come dire adesso non voglio farci c'ero proprio domo sua si guardino con occhio di benevolenza perché molte volte lo fanno appunto in buona fede per inesperienza perché non sono ancora consapevoli e come dire delle controindicazioni dei pericoli anche di assumere certe prospettive certe scelte o cose di questo genere perché non l'hanno visto d'accordo vedono soltanto una cosa ma non hanno il riscontro dell'esperienza la vita è fatta così per tutti cioè un religioso un consacrato un uomo di dio a meno che dio non faccia un miracolo insomma che lo doti di scienza infusa con me certamente non non l'ha fatto e lo ringrazio perché io sono una persona normalissima con tutti gli altri quindi non deve essere sul percorso privilegiato deve percorrere il cammino che tutti gli esseri umani percorrono l'esperienza non è sostituibile con nulla d'accordo ecco detto questo che faremo allora sulle modalità di procedere come dire dentro il mio spirito c'è ancora come dire un un fattore in itinere no quindi prendere degli argomenti ed esaurirli oppure come dire fare un po' un cocktail che ne so una sera uno fa un sacramento un'altra sera fa un comandamento adesso ci ho pensato questa sera già so quello che dobbiamo fare insomma no però sicuramente tratteremo gli argomenti classici come ho detto nel posto di questa mattina che ho fatto su facebook per avvertire insomma gli amici di questa nuova iniziativa che avevo già accennato in qualche diretta precedente soprattutto quello che è importante è sono i sacramenti e comandamenti perché per quanto riguarda poi la la fede adesso questa sera diremo diremo qualcosa rimando per quanto riguarda i contenuti proprio della della fede Gesù Cristo il padre la chiesa c'è per esempio adesso sono due anni insomma che negli anni passati abbiamo fatto ci sono tutti quanti i miei cicli di catechesi per adulti che sono quasi tutti appunto impostati sull'approfondimento del credo quindi delle verità di fede io credo in dio padre onnipotente in Gesù Cristo quindi la divinità di Cristo tutte tutte queste cose qui i discorsi scatologici la risurrezione della carne il paradiso il purgatorio i nuovissimi l'inferno si trovano quasi tutti negli incontri di catechismo per adulti eventualmente poi anche questi potranno essere ripresi però la cosa fondamentale che io avverto come fondamentale anche in questi contesti per esempio senza tutto questo problema grosso che ha anche scatenato la pandemia no quindi che è certamente l'ho scritto questo qui in qualche mio articolo questa è una parola di dio nel senso che a prescindere dalla qualificazione che si voglia dare a ciò che tuttora si muove in giro io non entro ma cioè si sono cercati fiumi di articoli di inchiostri complottisti non complottisti allora allora a prescindere da questo da qualunque forma di qualificazione del fenomeno è una permissione divina sicuro e quindi dio attraverso anche questa cosa anche anche attraverso quello che questo ha provocato nella chiesa ha provocato le nostre comunità ha provocato le nostre liturgie c'è tutto quello che tuttora vediamo insomma questa chiesa mascherati insomma no allora che ci dice io ci colgo sicuramente dei messaggi significativi certamente dolorosi che invitano di nuovo come dire i fedeli a interrogarsi sui propri rapporti con i sacramenti specialmente quelli che si possono ripete adesso non voglio anticipare insomma ma questo è chiaro questo che per forza che sia così durante anche durante qualche omelia insomma fatta durante le celebrazioni a porte chiuse diciamo così del lockdown se uno va ritrovare insomma le omelie di di marzo di aprile insomma che stanno sul mio canale youtube in qualche circostanza qualche piccolo scenno l'ho dato perché per forza che sia così d'accordo non può essere altro che 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 così allora questa sera questa sera vorrei introdurre questo nostro diciamo incontro sulla sana dottrina cattolica con la cosa più ovvia che esista al mondo ma che proprio perché la cosa più ovvia che esista al mondo dobbiamo assolutamente porla come punto fondamentale perché tutto quanto il nostro percorso non ha ragione di esistere senza questo punto fondamentale allora ci sono due brani della saga scrittura del nuovo testamento che sono fondamentale uno è quando gesù dice agli apostoli e questa sera vi prego di considerare questa cosa ripetuta a noi sia a chi ascolta la diretta sia a chi ascolterà come sempre ci sarà il podcast in mp3 oppure il video sul mio canale youtube spero già nella giornata di domani no gesù chiede agli apostoli chi dice alla gente che io sia e voi chi dite che io sia e la risposta di pietro la sappiamo tutti quanti a memoria d'accordo non c'è bisogno insomma di ripeterla io dico che tu sei il cristo il figlio del dio vivente attenzione che però gesù risponde attenzione che questo te l'ha rivelato il padre mio che è nei cieli questo per quanto riguarda il vangelo di matteo capitolo 16 se non ricordo male o san paolo nelle sue lettere scrive un'altra cosa molto simile e molto importante nessuno può dire gesù è il signore quindi il figlio del dio vivente o il signore dominos curios in ebraico yahweh quindi yahweh significa il nome che dio ha rivelato di se stesso a mosè ciò che ne esplica ciò che ne indica l'essenza nessuno può dire gesù è il signore se non sotto l'azione dello spirito santo e nessuno aggiunge sempre san paolo può costruire su un fondamento diverso che non sia il cristo allora la nostra fede divina e cattolica si basa su un dato di fede fondamentale che o ci credi o non ci credi cioè che gesù di nazareth nato dalla stirpe di davide secondo la carne come dice sempre san paolo il cui nome è stato registrato dai registri romani tramite censimento fatto da 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 giuseppe figlio di davide della tribù di giuda d'accordo ai tempi specificati di cesare augusto quando c'era la grande pace tutta quanta la terra eccetera eccetera d'accordo figlio di maria di nazareth quindi è chiamato gesù di nazareth è dio fatto uomo dici e che è sta roba super nuovo ciclo di catechismi super cose la san dottrina questo lo sappiamo sicuri che lo sappiamo siamo proprio sicuri che lo sappiamo cioè un conto è saperlo d'accordo perché il catechismo più o meno l'abbiamo fatto tutti quanti un conto è crederlo veramente e un conto ancora è vivere di conseguenza se questo punto non è fermissimo e certissimo la differenza fondamentale che c'è tra il cristianesimo e tutte le altre religioni sapete adesso è inutile che anzi circostanziamo che è meglio perché una delle finalità di questo nuovo ciclo di catechismi è proprio circostanziare le religioni come sappiamo hanno una bontà dipendente dal fatto di essere l'espressione del desiderio dell'uomo che tende verso Dio sono la testimonianza che la dimensione religiosa quindi il rapporto con il trascendente è insito nel cuore dell'uomo d'accordo e si sono esplicate in tante religioni esistenti nel mondo policheistiche, monoteistiche anche atei per esempio il buddismo non è proprio una vera e propria religione perché non ha una divinità in senso stretto alcune rivelate come l'ebraismo d'accordo monoteistiche come l'ebraismo e l'islam a fianco al cristianesimo ecco quindi la chiesa ha sempre riconosciuto come dire nelle religioni questo quindi questa bontà dipendente dal fatto dell'essere l'espressione proprio della della dimensione religiosa dell'uomo solo che c'è un problema chiamiamolo un problema che mentre tutte quante le religioni sono espressione del movimento dell'attenzione dell'uomo verso Dio il cristianesimo è il contrario perché nel cristianesimo noi crediamo che Dio è venuto a cercare l'uomo non il contrario cioè nessuno se lo poteva neanche andare a sognare la notte d'accordo che Dio ci avesse un figlio che fosse trino pur essendo uno ma che tanto si capisce io ho studiato la teologia trinitaria l'ho pure insegnata la teologia trinitaria non dovrei dire queste cose no noi balbettiamo qualcosa sulla santissima trinità ma se ti metti a guardare la santissima trinità volendo sfondare e comprendere è come se ti metti a guardare la luce del sole non ci riuscirai mai in questo mondo non possiamo avere una cioè possiamo balbettare qualcosa possiamo come dire inquadrare possiamo dire possiamo come dire rettamente porre la questione della santissima trinità ma cioè rimane un mistero perché rimane per noi per la nostra mente assolutamente incomprensibile di come sono tre ma sono uno perché sono tre persone sono uguali sono distinte ma sono un solo Dio ok quindi chi se lo poteva andare a immaginare che Dio aveva un figlio e che quel figlio diventava uomo come me lui veniva a cercare me d'accordo lui viene a cercare me per fare cosa per offrirmi la sua amicizia il suo amore tirarmi fuori dai guai la sua salvezza attenzione e dicendo che se non lo si accoglie lui la pienezza del bene della salvezza della gioia non è accessibile all'uomo ecco perché lo vedremo Gesù ha detto andate in tutto il mondo annunziate il Vangelo battezzandovi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo non ha detto andate a imporre d'accordo la fede divina e cattolica no ha detto predicate se qualcuno crede e chiede il battesimo battezzatelo d'accordo ma per quanto sta in voi fate in modo che questa cosa arrivi a tutti che nessuno ne sia escluso perché non gli è arrivata d'accordo ma è ovvio è ovvio che sia così perché in questo Dio ha manifestato come dire la sua volontà il suo progetto d'accordo quindi questo è per noi che ovviamente ci crediamo un dato di fatto imprescindibile cioè è chiaro che io rispetto tutte le religioni d'accordo non vado a come dire a aggredire o a disprezzare qualcuno d'accordo piuttosto sono grato al Signore e ho tanta compassione per un fratello o per una sorella che magari sono nati cresciuti e vissuti in un altro contesto culturale per cui quello hanno imparato e magari hanno anche delle riserve mentali talmente grandi che se tu gli annunciassi il Vangelo sicuramente non sarebbero magari disposti proprio a riceverlo per cui il sentimento a mio modesto avviso corretto da avere è un sentimento come dire di dolore di sofferenza e di compassione unito alla preghiera del Signore apri i cuori di quante più persone possibili d'accordo perché in realtà anche una persona che venisse questo è successo per esempio in diverse circostanze per esempio da ebrei convertiti al cristianesimo oppure da si pensi per esempio a una Edith Stein oppure si pensi al cardinal Newman che veniva dall'anglicanesimo e si è avvicinato al cattolicesimo quindi che cosa è successo in queste bellissime esperienze d'accordo ovviamente maturate nel contesto della libertà d'accordo non è che nessuno li ha aggrediti e li ha obbligati a diventare cattolici assolutamente d'accordo e quindi c'è stato tutto tanto un processo una storia che Dio ha fatto e poi li ha portati ma l'ebrea Edith Stein ha trovato nel cristianesimo la pienezza della sua religione il cardinal Newman adesso è diventato vorrei dire una sciocchezza sicuramente beato non so se è già anche canonizzato ma beato sicuro quando è diventato cattolico ha capito diciamo così si è reso meglio conto come dire del limite che c'era fino a quando era anglicano per carità gli anglicani sono cristiani non sono come dire figli di un'altra religione ci credono che Gesù Cristo è Dio ma per essersi separati diciamo così dalla dalla fonte ci sono privati di una parte di quella pienezza che solo la chiesa cattolica possiede ma non è che lo possiede perché vuole fare la superba come l'arrogante e andare a dire io c'ho tutto e voi non ci avete niente quindi non è così cioè è un fatto come dire dipendente da quello che Dio ha voluto perché sceso sulla terra Gesù ha lasciato il patrimonio di ciò che è che ha fatto e che bisogna fare alla chiesa d'accordo nonostante tanti uomini di chiesa adesso non c'è bisogno di citare insomma quei memorabili eventi che io ricordo benissimo del 2000 di San Giovanni Paolo II con la purificazione della memoria quindi nella chiesa nonostante gli uomini di chiesa quindi cioè capite quindi chiunque d'accordo attraverso quel processo libero e spontaneo perché il nostro Dio vuole figli non vuole schiavi attenzione quindi questo sia quindi chi si avvicina però alla fede trova da qualunque parte venga la pienezza di quello che era d'accordo perché nelle altre religioni per esempio ci sono degli elementi di verità non è che una religione intrinseca ma come dire a meno che non siano come dire le sette nere quelle cose lì no ma troveremo se uno le studia dovunque si gira trova degli elementi positivi trova degli elementi belli trova degli elementi edificanti anche questo come dire il principio su cui si regge il rettamente inteso dialogo religioso no quindi che cerca dei punti di contatto quindi dei valori su cui si converga per poter comunque lavorare e costruire qualcosa di buono per il consorzio umano d'accordo ma una persona che conosce da qualunque fonte venga il cristianesimo troverà non è che trova il disprezzo come dire la negazione ma trova ordinariamente la pienezza a meno che non si stia proprio insomma in come dire in qualche forma un po' berrante religiosa che si è vista nel corso della storia penso penso alle regioni cananee al tempo di israele insomma no quelli facevano i sacrifici umani pare che anche le antiche religioni dell'america latina i maia gli aztechi gli incas il film che ha fatto Mel Gibson Apocalipto insomma che racconta delle cose orribili insomma che facevano ma anche i pagani i pagani le divinità pagane dell'olimpo romano e greco insomma lì il discorso è un pochino diverso però ci sono altre forme religiose che hanno degli elementi positivi ma solo nel cristianesimo si trova la pienezza d'accordo perché la pienezza perché noi crediamo che Gesù è Dio non è solo un profeta la risposta che dietro dice alcuni dicono di essere Giovanni Battista altri Elia altri Geremia o qualcuno dei profeti d'accordo in tanti cioè a meno che una persona non sia mezza insata-nassata o indemoniata cioè di fronte alla testimonianza alla vita alla predicazione di Gesù cioè non si può non avere come dire rispetto stima ma no non credo che Gesù guardando attenzione da un punto di vista umano quindi sto mettendomi nei panni di un non credente quindi non credo che guardandolo da un punto di vista umano Gesù abbia qualcosa insomma da invidiare a Martin Luther King insomma per esempio Oma Atma Gandhi d'accordo quindi che 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 abbia un rispetto universale in questo senso lo vogliamo tutti quanti ben sperare no perché è chiaro insomma è stato un da un punto di vista guardandolo in ottica umana è stato un grandissimo esempio di vita grandissimi insegnamenti d'accordo e il problema è che noi crediamo che quell'uomo è Dio d'accordo è di più non è semplicemente un grande profeta un grande maestro il fondatore umano di una religione è Dio è un'affermazione forte d'accordo è un'affermazione sconvolgente d'accordo e non diamola mai per scontata perché poi quell'uomo è Dio ma la sua esperienza terrena soprattutto la la fine della sua vita terrena è stata sconvolgente insomma Dio crocifisso Dio è morto in croce sì sì proprio sì chi stava uccidendo questo signore Gesù Cristo stava uccidendo Dio fatto uomo d'accordo ora attenzione perché qui si entra in campi cioè l'uccisione di Gesù Cristo fermo restando la condanna di ogni sorta di antisemitismo di di tutto quello che c'è stato d'accordo quindi circostanziamo ma chiamare l'uccisione di Gesù Cristo dei Cidio è la verità è un altro discorso come dire fare i capi di imputazione perché sappiamo insomma che purtroppo della morte del figlio di Dio è responsabile tutto il genere umano da Adamo fino all'ultimo uomo non c'è nessuno che è innocente nessuno d'accordo poveracci anche questa a me mi fanno una pena infinita perché ti immagini cioè che disgrazia proprio no essersi trovati nei vanni insomma di di qualcuno di quelle persone che o come dire a livello giudiziario nel processo o a livello esecutivo cioè pensate c'è stato qualcuno che sicuramente ha infilato i chiodi dentro le mani dentro i piedi di Gesù Cristo l'ha fatto d'accordo non è che si sono infilati da soli cioè tu pensa che disgrazia insomma no cioè essere essere stati quella persona insomma no quindi guardiamo sempre le cose con quest'ottica ecco che ci viene anche dal dal nostro essere dal nostro essere figli di Dio no quindi però quella cosa è un decidio è stato ucciso Dio è stato ucciso quindi è stato ucciso Dio e quando San Pietro va a fare la sua prima grande predica dice noi annunciamo che Gesù che Gesù di Nazareth che voi avete ucciso Dio l'ha risuscitato da morte attenzione quel che voi avete ucciso quando noi oggi lo sentiamo riguarda me allora la nostra fede cattolica parte da queste da questa grandissima coordinata perché la trinità cioè a catechismo noi ci hanno insegnato qui stiamo parlando della sana dottrina cattolica che la nostra fede ha due misteri principali l'unità e la trinità di Dio l'incarnazione la passione la morte e la risurrezione di Gesù Cristo il nostro salvatore ma che Dio sia uno e trino attenzione noi l'abbiamo saputo quando quando quell'uomo venuto sulla terra ha detto io e il padre mio siamo una cosa sola e nel Vangelo di Giovanni si chiamava Uios di Dio non Tecne cioè perché questo secondo termine può indicare un figlio adottivo quindi cioè figlio per adozione Uios è il figlio naturale capito quindi in senso forte il prologo del Vangelo di San Giovanni quello che i poveri testimoni di Geova ci hanno falsato dice che il verbo era En O Teos Teos con l'articolo cioè non divino ma Dio ok ecco quindi la stessa trinità deriva da cosa da Gesù che dice io e mio padre siamo una cosa sola e quando me ne sono andato verrà lo spirito santo che procede dal padre Vangelo di San Giovanni questa è la rivelazione della Santissima Trinità poi la chiesa si è trovata evidentemente a dover definire dogmaticamente le persone i rapporti tra le persone quindi come la si debba intendere i primi sei secoli i primi concili sono tutti quanti trinitari e cristologici ok e il secondo mistero che è il secondo in ordine come dire logico ma come dire in ordine se vogliamo cronologico perché sì certamente nell'Antico Testamento Dio si era rivelato d'accordo quindi che Dio fosse uno si sapeva ma che Dio è trino si è saputo quando è venuto Gesù sulla terra allora voi capite che se Gesù è Dio per esempio quando Gesù dice tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa sta dicendo una serie di cose che le ha dette Dio d'accordo cioè Dio quando dice quando apre bocca non sbaglia non mente non inganna non può sbagliare d'accordo quindi tutte le persone che anche adesso sono preoccupate di tante cose a livello ecclesiale tutto può succedere qualunque cosa ma le porte degli inferi non prevarranno punto e basta d'accordo finito il discorso finito il discorso tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa significa che c'è uno che è Pietro e i suoi successori che nella chiesa c'ha il primato punto d'accordo e che se vuoi stare nella chiesa devi rimanere in comunione con lui questo l'ha detto nostro signore Gesù Cristo quindi che significa quando noi ci abbiamo una cosa che è attribuibile al nostro signore Gesù Cristo se tu credi che è Dio anche se tutto congiurasse contro anche se tutto sembrerebbe dirti il contrario portati a fare il contrario tu quella cosa contraria non la fai perché se Gesù che è Dio ha detto di fare così io faccio così punto e basta capito quanto è importante quando parleremo dei sacramenti il battesimo Gesù ha detto andate in tutto il mondo annunziate il Vangelo e battezzate ogni creatura nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo capire per esempio il battesimo dei bambini perché il battesimo è un bambino che non è in grado di intendere lui e di volere punto interrogativo vedremo l'Eucaristia noi perché crediamo nell'Eucaristia adesso facciamo una carrellata con questi discorsi li approfondiremo Gesù ha detto una cosa nel Vangelo di San Giovanni se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue non avrete in voi la vita la mia carne è vero cibo il mio sangue è vera bevanda ora certamente non intendeva Gesù che non è successo questo qui che bisognava ucciderlo e mangiarselo come fanno i cannibali insomma oppure andare mentre era vivo a mozzicarlo e a strappargli la carne scusate se sono così insomma un po' quindi si è inventato d'accordo un modo sacramentale ma attraverso il quale quello che lui ha detto che era necessario si compie e che cos'è quel modo sacramentale siccome è Dio attenzione Dio è creatore e signore di tutte le cose quindi può creare una cosa anche dal nulla se Dio prende un pezzo di pane come ha fatto nell'ultima cena e dice questo è il mio corpo attenzione il verbo è il verbo essere non ha detto questo simboleggia il mio corpo questo rappresenta il mio corpo questo significa il mio corpo che domani sarà crocifisso per voi no ha detto questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi non che domani offrirò in sacrificio per voi ultima cena offerto subito sta dicendo due cose fondamentali che il pane si trasforma nel corpo veramente di Cristo e che ogni volta che questo avviene si compie il sacrificio della croce lì dove questo sta succedendo capite perché cioè se qui non stiamo d'accordo che Gesù Cristo è Dio cambiamo non proseguiamo non proseguiamo l'ascolto di queste di questo ciclo di catechesi d'accordo se non siamo d'accordo su questo Gesù Cristo è Dio punto o ci credi o non ci credi non diamo scontato il fatto che veramente ci crediamo scusate se uno crede che Gesù Cristo è Dio facciamo sempre un'altra provocazione a scopo introduttivo perché parleremo di queste cose per esteso parleremo del battesimo dell'eucharistia Gesù ha detto ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno rimessi l'ha detto agli apostoli questo qui ma come fa uno che dice di credere in Gesù Cristo a dire la confessione non serve allora Gesù Cristo ha detto una stupidaggine ha detto una stupidaggine ha detto una sciocchezza e se Gesù ha detto che è venuto sulla terra a morire per i nostri peccati adesso passiamo al crocifisso San Giovanni ha fatto questa eco ecco perché i comandamenti se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi e facciamo di lui un bugiardo un bugiardo ma guardate che tantissima gente poverini non sanno quello che dicono ecco perché è importante ascoltare sui dieci comandamenti pensano di essere senza peccato ma io che faccio padre ma io non faccio niente di male questo si sente dire in continuazione d'accordo e quindi pensando di essere senza peccato è chiaro che se io sono senza peccato non ho bisogno di nessuna salvezza se non ho bisogno di nessuna salvezza non ho bisogno di nessun luogo della salvezza che è la chiesa è ovvio cioè è tutto quanto ovvio è tutto quanto logico dentro un certo orizzonte però tu devi sapere che se tu dici che stai senza peccato ecco quanto è importante tu fai di Gesù Cristo un bugiardo allora tu non puoi dire io credo in Gesù Cristo e poi pensi che lui cioè credo vuol dire tu credi che è Dio ma Dio le bugie non le dice sta tranquillo che Dio le bugie non le dice e non parla a bambera ora anche tante tante cose che tanta gente pensa ma io sa padre io credo però non vado tanto in chiesa però dico dico le mie preghiere non si può dire questa cosa non si rendono conto di quello evidentemente che dicono ma questo è un discorso assolutamente sconclusionato sconclusionato perché se tu credi Gesù ha detto se non mangiate la mia carne non bevete il mio sangue non avrete in voi la vita quindi vuol dire che se tu non metti mai piede in chiesa messa non ci vai mai non ti confessi non ti metti in condizione di fare la comunione tu non stai ubidendo a Gesù Cristo ma se Gesù Cristo ti fa un discorso ipotetico cioè dire se non mangi se non fai una cosa non avrai cioè capite è un modo di esprimerti assoluto cioè se tu questa cosa non la fai la vita in te non ci sta non puoi dispensartene per un atto di volontà tua capite no quindi tutto dipende da questa grande affermazione dopodiché la seconda il Deicidio Gesù Cristo è morto per che cosa per i nostri peccati ci dice e ancora Nuovo Testamento per distruggere le opere di Satana nel diavolo oggi molti non ci credono qualcuno invece ci crede un po' troppo cioè c'è chi ne nega l'esistenza o ne ignora l'azione e c'è chi ne esaspera come dire in maniera eccessiva la pur grande potenza cioè chi ne fa una sorta di Dio antagonista che sta quasi sullo stesso piano di Dio e chi invece afferma che non esiste la verità non è nell'una nell'altra il diavolo ha un potere enorme e il potere del diavolo lo vince solo Gesù Cristo vuol dire che se tu non hai una vita di perfetta unione e comunione con Gesù Cristo tu che a differenza di un angelo sei un uomo non sei un angelo sei sotto il suo potere ti può fare del male tanto e non soltanto perché diventi indemoniato posseduto questa è una cosa del tutto eccezionale rara capite ma tante dinamiche tante cose perché le cose devono storte nella vita molta gente ma va tutto storto un sacco di disgrazie un sacco di cose un sacco di ma quante persone si interrogano e dire ma ma il male non viene direttamente da Dio il male viene dai nemici di Dio perché ti colpisce il male il male ti colpisce ordinariamente circostanziamo come al solito i santi sul modello di Gesù Cristo Dio permette che le forze del male gli facciano del male a volte perché perché come la vicenda di Gesù Cristo dimostra prendersi su di sé i mali non propri quindi fare dei piccoli redentori quindi pagare per le colpe altrui ha come conseguenza il bilanciamento della giustizia divina e quindi provoca la conversione di chi è cattivo ok quindi è vero che ci sono alcuni che soffrono il male sulle orme di nostro Signore Gesù Cristo quindi non come conseguenza di alcuni guai che hanno combinato che quindi gli ricadono contro ma perché prendono su di sé i peccati degli altri ma nella stragrande maggioranza dei casi non è così non è così cioè i mali che ci circondano le disgrazie le cose tutto quello che ci gira intorno dipendono da una vita trascorsa lontana da tutto ciò che dal male ci difende e ci protegge cioè dai sacramenti dalla preghiera dalla vita di grazia dall'osservanza della legge di Dio eppure dai sacramentali ma oggi chi ci crede punto interrogativo se succedono le malattie se va dal dottore bisogna andare dal dottore ovviamente d'accordo se una persona va in depressione va dallo psicologo ecco qui lo psicologo è un discorso un pochino più complicato d'accordo oppure qualcuno tanti perché un italiano su tre cominciano a pensare che esiste chi lo sa che mi hanno fatto e cominciano ad andare da maghi fattucchieri e impicci vari un italiano su tre 20 milioni di italiani l'anno chi è che va nell'unico posto dove bisognerebbe andare a risolvere a risolvere tutti i problemi della vita propria quasi nessuno dio fatto uomo è morto in croce per i nostri peccati d'accordo quello che è successo è che lui si è fatto uccidere concedendo addirittura al diavolo il potere di compiere il sopruso dei soprusi cioè stendere la mano non solo su un uomo innocente ma su uno che era dio perché attraverso questo sopruso tutti noi che siamo tutti i peccatori fossimo immediatamente liberati basta invocare il nome di Gesù dai lacetti agli artigli del diavolo questo è un altro fondamento basilare della nostra fede quindi in poche parole questa sera abbiamo proprio messo le fondamente la sana dottrina cattolica si fonda su questi proprio quelli di questa sera sono proprio le fondamente i pilastri i muri portanti se uno perde la bus e se uno perde queste queste buone non capisce più niente non capisce più niente quindi tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo ricordiamoci un pochino di questi brani biblici se non mangiate la mia carne non bevete il mio sangue non avrete in me la vita andate annunciate il Vangelo ad ogni creatura e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo a chi rimetterete i peccati voi apostoli saranno rimessi a chi non li rimetterete resteranno rimessi Cristo è morto per i nostri peccati giusto per gli ingiusti per ricondurci al Padre San Paolo d'accordo il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere di Satana le opere di Satana croce dove è morto e il prezzo del nostro riscatto riscatto dalla schiavitù del demonio è il sangue preziosissimo di Cristo e il sangue preziosissimo di Cristo si verse in ogni messa che viene celebrata questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi qui ora adesso ok ecco questa è un pochino la base questo è mi raccomando quindi chi non crede perché nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo noi l'abbiamo ricevuto perché noi siamo stati battezzati quindi noi abbiamo tutti tutti i battezzati hanno dentro il cuore la capacità di compiere questo atto di fede teologale cioè di dire senza nessun dubbio che Gesù Cristo è Dio io ci credo se sei battezzato lo puoi fare se non sei battezzato devi farlo per poter essere battezzato d'accordo e ci vuole che la grazia di Dio ti porti al Signore e ti faccia dire perché l'unica condizione per essere battezzato adesso certamente bisogna fare i corsi di formazione eccetera eccetera no però per essere battezzati in senso stretto poi lo vedremo devi credere che Gesù è Dio non occorre altro non occorre altro quindi chi non crede che Gesù è Dio questa è la prima puntata è la prima ed ultima puntata chi invece crede che Gesù è Dio e vuole cominciare ad approfondire un pochino come si può raggiungere accogliere tutto quello che Dio in Gesù ci ha donato e vivere come Gesù ci ha insegnato ci vediamo martedì prossimo ci sentiamo martedì prossimo per la seconda puntata del ciclo di Catechesi la sana dottrina cattolica saluto tutte le numerose persone di questa sera in diretta chi lo sa che saranno sempre così numerose e anche tutti coloro che vedranno il video in differita alla prossima settimana santa notte a tutti e ave Maria